C'era una foto che c'era tipo il camion, gli avevo un dato della mostra, c'era un'auto mostra, 13 moto aveva C'era una foto con 13 moto davanti, cioè Forse perché gli ottantini costava poco, non lo so E li andati perché gli costavano poco Perché lo sa che eravamo in moto di merda Bentornati e ben ritrovati a tutti amici di Starpad con un nuovo episodio Un commento del Supercross, stavolta Denver Per l'ultima prova del campionato Che ne è successo di tutti i colori Senza... Cioè, si è stravolto il campionato Rimescolando le carte I 16 commenti che abbiamo fatto prima di questo evento qua Non servite a un cazzo Infatti li eliminerò tra poco Sì, perché tanto è andato tutta puttana Esatto Tutti i nostri pronostici, però niente Comunque sempre delle belle gare, sempre delle grandi battaglie Quindi ci è piaciuto Ci è piaciuto anche questa gara Il tracciato Denver Un bel tracciato Un bel supercross Niente di sconvolgente Bello il doppio prima delle Wops Bellissimo Era molto... Facciamo un po' di airtime Un po' di tempo in aria Dove potevi ammirare i piloti Un po' lento Cioè, un po' più lento del solito Esatto Un bel supercross Un tracciato molto compatto Quindi con un fondo molto compatto Quindi poco grip Però, insomma, non ho visto i piloti Lamentarsi del tracciato Quindi, bene Vanno difficilmente in difficoltà, diciamo Bravo Ricky Carmichael Che l'ha disegnato Adesso Ricky Carmichael C'ha pancia da... Ma poi è dimagrito adesso Un po' sì Un po' sì Però smanopellava lui Sì Tra l'altro è girato un video di lui Col due e mezzo, due tempi Che... Col Suzuki Col Suzuki Tanta roba Bello Col quarto che era su il numero quattro davanti Era così Non ci stava Un altro bene Sbordava quasi Bene Adesso iniziamo subito con i due e cinquanta Quattro tempi Dove abbiamo un jet Che speriamo vinca il campionato Perderlo C'è da impegnarsi Sì C'è da impegnarsi Dopo la sfilterata di primi Ma partiamo dalla hit 2 Dove jet ha pensato bene Di provare a perdere il campionato E di cercare di crearsi un po' di casino Giusto per... Tenere vivo il campionato Tra l'altro richiamato dal suo fratello Perché partendo male Puoi incappare in errori Puoi incappare in cadute Anche degli altri piloti E qui lo vediamo Come perdere un campionato All'ultima gara Stare molto attenti Perché un piccolo contatto così È un attimo A te metti il dito così Ti spacchi un dito Qualcosa Per una stupidata Va a compromettere Un lavoro nella stagione Insomma Quindi poi jet recupera Finisce quarto Quinto la hit E quindi si prende Il suo bello ottavo posto Al cancello Questo secondo me Condiziona anche Come detto dai commentatori Dai nostri amici americani Condiziona anche la partenza Chiaro Vediamo che i top rider Si mettono Meno male nel supercross Quasi tutte le partenze E così Si mettono Principalmente Verso il centro E in questo caso Si trova all'interno E in una partenza di imbuto Come questa qua Anche l'uscita del cancello Era peggiore In quella parte Della partenza Quindi troviamo in testa Un sorprendente A tratti Volant Direi che nella seconda parte Di stagione Soprattutto nelle ultime due o tre prove Ha fatto vedere Quello che magari In questi due anni Due anni E poi uno Perché l'anno scorso Si è fatto male E in questo anno Non ha Molti aspettavano E non è riuscito a tirar fuori Diciamo Qui vediamo il sorpasso Di Levi Kitchen Su Volant Che si prende il comando Anche lui Anche Levi Kitchen Comunque un ragazzino Tirato su Dalla Star Racing Yamaha E poi qua vediamo Il perché Volant non ha mica finito la gara Cioè Ha finito la gara Ma in posizione Di rincalzo Sì In una posizione Che non era quella Che siccome si aspettava Lo voleva Somma il podio quest'anno Qui entra Enzo Lopez Diciamo che È un contatto di gara Contatto di gara Ci sta nel supercross Soprattutto in queste curve Dove ti fermi Sono in seconda Praticamente O primo Non lo so Come in questa porti Ganno Come voltano Però sono fermi Ti toccano leggermente Il davanti Lì è andata Ci sta È andata Ti può capitare E intanto Jet dalle retrovie Viene su Viene su Viene su Recupera posizioni Non sicuramente Non ha forzato Troppo Diciamo Nel senso Si è accontentato Perché Sì Testo è campionato Sempre Quindi un altro passaggio Sempre allo stesso punto Su Enzo Lopez Con un gesto tecnico Importante Importante RJ Hampshire Ritorna Su Levi Kitchen Cerca di passarlo La prima volta Levi Kitchen Qua sbaglia la tavola Deve fare un 2-1 Non anzi Un 2-2 Allunga un po' la staccata Hampshire Fuori traiettoria Non gli rimane che Dicono anche Che abbia sfollato Qua Hampshire Ah Che Non gli sia Cioè Gli è entrata la folle Quindi non è riuscito A dar gas Per fare il doppio Infatti Arriva un po' corto E gli va bene Perché cadere un attimo E riesce a recuperare Direi per sua fortuna Direi Zero grip sul Pave Ma non contento Hampshire Quindi ritorna in pista E spinge 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 Ritorna sotto a Kitchen Che tra l'altro Petterina fuori Davvero America Non so neanche se sia nel regolamento Però se l'ha fatto È nel regolamento Sì In America puoi Lollo In America puoi In America puoi Quindi max speed sulle whoops E Entra deciso E va a prendere la prima posizione A concludere la Manche Vincendo Prima Gara di stagione Per lui Molto contento Visto anche le foto Con la coppa È carico duro Ci sta Ci sta Dici Porca cane Non lo so Gliel'hanno fatta sudare Comunque Non lo so Non so se Non ci è arrivato Molto facilmente Ha fatto prima Kitchen Per dire Sì Quindi vedremo Lo vedremo secondo me Nel National Bello aggressivo Quindi Jet Lawrence In confondibile stile Senza una mano Ken Roxen Come diciamo Il sempre Non ha prova Assolutamente Si deve Per il campionato Sì Per il campionato Deve prenderlo piano Poi Poi Alla sedere Era minima Niente Niente piega Per Jet Comunque Super contento Ci fa piacere L'anno scorso Ha vinto la costa est Quest'anno Vince la costa ovest Pronto Per il debutto Nella Direi che Il pacchetto 250 L'ha chiuso Perfettamente Perfettamente Quattro campionati Due national E due super cross Quindi Di più Non poteva fare Abbiamo un Lawrence Che chiude terzo Questa serata Alla fine Dietro a Kitchen E Hampshire Che sono secondo E primo Rispettivamente E quarto Lopez E niente Chiude questo capitolo 250 Un Get Lawrence Alla perfezione Con un campionato Strepitoso Nel migliore dei modi Nel migliore dei modi Stravincendo Quattro campionati Nella categoria 250 In due anni E una tranquillità Esemplare Una tranquillità esemplare A parte qualche gara Che è partito un pochino dietro Comunque Sempre presto avanti Penso che sia uno dei pochi piloti Che passa in 450 Con una preparazione Non solo di moto Ma anche mentale Davvero campione Però devo dire che Jet Almeno per tutto il motocross Che ho guardato io Finora Non so se posso Sbilanciarmi Però lo farò È Il ragazzo più talentuoso Che abbia visto fino adesso Si vedrà secondo me Si può mettere insieme A gente come Roxen Che peccato Ho concluso poco Come Erlings Come Stewart Eh però Secondo me Proprio per Quello che sta facendo adesso È il più talentuoso Perché comunque È un bel po' Che non si fa male No no Quello è vero Quello è vero Diciamo che è questo Quello sicuramente Roxen va bene È super talentuoso Tantissimo gas Però i suoi infortuni Li ha avuti Sì Erlings Super talentuoso Tantissimo gas Anche lui Però dall'altra parte Dell'oceano I suoi infortuni Li ha avuti Quindi Così come anche Stewart Che ha portato a casa Poco per la velocità Che Stewart si parla Dell'uomo veloce sulla terra Che può essere Perché i passaggi Che faceva Stewart Di video così Se ne vedono pochi Tutto ora Anche di gente come Erlings Che è uno che fa dei passaggi Paurosi Ad esempio Sì Ma dei passaggi A certa velocità Forse solo Stewart Li ha fatti Però Secondo me Il talento Comprene tante cose E Jet è perfetto In questo momento Sì Fino adesso È stato perfetto Ha avuto le infortuni A primo anno Nella corso supercross Sì Perché Un duello con Ferrandis Che voleva vincere lui La gara E A 15 anni Ci sta Ci sta Comprensibile Però Tanta roba Sì Tantissima roba 4 e mezza Partiamo subito Con la 4 e mezzo Partenza In testa Prima curva Scivolata di Roxin Buono scatto Per le due Suzuki però Con Shane McClart Che così Dal nulla Parte prima Shane McClart Cianciarullo E Tomac Che riesce subito A prendere la seconda posizione Niente Va benissimo per Tomac Parte benissimo direi Parte benissimo E Non poteva iniziare La gara meglio di così Invece In questa posizione Guardiamo Roxin Quindi Dead last Sì Caduto alla prima curva Ultimo Cos'ha fatto Prima curva Allo Ha perso il dietro Tutto perso Pare Ci sta Era sul ghiaione Col fondo Abbiamo parlato Prima della pista Col fondo un pochino duro Non esagerato La trazione No Pessimo Quindi la gara come continua Tomac passa subito Forte su McClart E si mette in testa Tira Mette un pochino di gap La sua gara Era quasi finita Direi Ma Quanto? Un quarto di gara circa? Sì un quarto di gara Nelle prime fasi di gara Purtroppo Succede un imprevisto Che Qui Possiamo vedere Nel 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 atterraggio Del dosso prima Adesso fa vedere anche nel replay Stop in massima compressione Lollo Con anche un po' il sottotitolo Toglio il sottotitolo Possiamo vedere Togliamo anche la barra Lollo Eh non posso Non si può togliere la barra Eh no Possiamo vedere Appena si fa la barra Che non si può togliere Che è cementata La caviglia di Tomac Che va Over Eh sì Va over E Si parla di una fattura Al tendine d'Achille Sì si è proprio strappato Il tendine d'Achille Da quello che dicono I tabloid Che è una Io penso sia una sfortuna Per un pilota come Tomac In un momento così delicato Sua carriera A fine carriera Magari Stai dominando Vinci nella stagione Perfetta precedente Questa qua Hai vinto ormai Il titolo Il titolo Bastava amministrare Un attimo Sexton Un capotto In tutta la stagione Per Tomac Alla seconda o terza prova Insomma Nel triple crown Nel triple crown Quindi stagione perfetta Senza cadere Ti fai male Cioè penso che Dici bo Non lo so È un segnale Purtroppo Questo tipo di infortunio Soprattutto al tendine d'Achille Arriva Quando meno te lo aspetti E senza fare cose strane Perché secondo me Tomac Un salto così L'avrà preso così Un milione di volte È vero Ho avuto un pochino Di complessione Ma quante volte In allenamento Sarà arrivato corto O lungo Tante volte O i capotti che danno Che non sappiamo Perché di quelli Ne danno Secondo me In allenamento Cioè di cartelle Però purtroppo Il tendine d'Achille È una cosa veramente A cui non ci puoi fare niente Cioè Succede Il tendine si sfilaccia A un certo punto Cede Quando cede Cede Basta Solo che io penso Sono degli infortuni Più brutti Ti possono capitare Parlano di circa Cinque Sei mesi Per Ritornare in forma Ritornare alla forma Diciamo di prima Quindi Comunque Lungo A trent'anni Con tante stagioni Con tante stagioni Supercross Alle spalle Con tante infortuni Alle spalle Questo potrebbe essere Il tassale definitivo Che relega Poi Tomac Che relegherà Tomac A ritiro Se Tomac decide Di ritirarsi Di ritirarsi Quello che doveva dimostrarla L'ha dimostrato Però Secondo me Il sentimento di rivalsa Prevarrà Vedremo Il tempo Darà ragione a me Oppure a te Vedremo Vedremo Qui vediamo Un Tomac Che va Nella Come si può dire Centro medical Pinessar Sì Dove fanno Il primo soccorso Dove ti portano In caso di caduta Ti mettono Già Il piede Duro E via Lo portano Sul macchinino Via Una cosa un po' triste Tanta sfiga Ma Siamo qua per condimentare La gara Quindi Sexton Su Cinciarulo Per prendere La leadership Non solo della gara Uguale ad Ampshire Max Speed Sulle whoops Non solo della gara Ma anche del campionato Sì Quindi Sexton Passa in testa E Fa un po' di gap E intanto Un redivivo Roxen Dalle retrovie Ma non retrovie vere Non retrovie decimo Retrovie Non è che sono partito male Ventiduesimo Sì Si va a prendere Il secondo posto Di Cinciarulo E la gara finisce così Sexton primo Che si prende Gara e campionato Secondo Roxen E terzo Cinciarulo Cinciarulo Tanta roba Super contento All'arrivo E tanti anni Che non saliva sul podio E Ha parlato anche di demoni Ha parlato Cioè Nel post Parla anche di demoni Sicuramente viene da tante stagioni difficili Una promessa del motocross Esagerata Fin da quando era 15 anni C'era un attesissimo Cinciarulo Era super atteso Io me lo ricordo Quando facevo il mini cross Io che lui faceva il mini cross E c'era una foto Che c'era tipo C'era il camion Gli avevo andato Della mostra Certo mostra Così Tredici moto C'era una foto Con tredici moto davanti Cioè C'era Forse perché gli ottantini Costava poco Non lo so Che gli è andati Perché Kawasaki Ha detto in moto di merda Sì Come giocare con TM Sì No Scherziamo Scherziamo No no Per niente Super pompato Non ha vinto Niente di quello Che ci si aspettava Cioè Supercross L'ha perso I due All'ultima gara Americano Con chiaro origine italiane Tra l'altro Sì Potrebbe venire Il team Italia Potrebbe venire A fare Non so Il Carpination Esatto Cianciarullo Se stai guardando Questo video Vieni a fare Il Carpination Ti aspeto bello È un posto Qua Sì 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 Il nostro studio No Quindi Sexton Matematicamente Campione Perché Se Tomek non corre Che non pensiamo Che corra Se Tomek non si iscrive Alla prossima gara E non corre Alla prossima gara Sexton Matematicamente Campione Perché Il terzo Che in questo momento È Cooper Webb Anche lui Non corre E non potrà mai Arrivare ai punti Di Sexton Quindi Sexton Matematicamente Campione Se Tomek non corre La prossima gara E probabilmente Non la correrà No Si può fermare Invece Roxen Soltanto Alla terza posizione Non riesce Non riesce a Passare A passare Tomek Rimarrà Se Tutto va bene C'è un punto di distacco Da Webb La prossima vince Satsuki Prossima vince Roxen Che si fa Non ma ci sta Satsuki vince L'ultima Salt Lake City Poi ci fa una bella whip Se la fa Speriamo Speriamo sia bella piana Dura la rampa Si sta allenando Un po' Così Sì Sì Non secondo i piani Però Io Alla gara numero 12 A fine della gara 13 Ho detto Ne può vincere No La fine della gara Sì 13 Quando ha vinto Ad Atlanta Può vincerne 4 Le prossime 4 in fila Per il momento Ne ha vinte 3 Sì Quindi Cioè Io direi Tanta roba per sexto In ogni caso Vincere al campionato Non magari Anche lui Dispiaciuto 12 nel post Che Se devo scegliere Con chi combattere Un campionato Io decido di combattere Con Tommac L'ha proprio detto Nel post Cioè Lui dice che è un rivale Con cui vincere È tanta roba Capito Sì Cazzo Peccato Ci saremmo arrivati All'ultima prova Secondo me Che Sì Ci sarebbe stato poco Anche se Diciamo Tommac Con il margine di punti Sarebbe stato Abbastanza Sì Però Peccato Che non si riesce a vedere E La maledizione Di Anei Muno Continua La maledizione Di Anei Muno È vero Alla prima gara L'abbiamo detto Se non me lo siete visti Nel primo video Di Anei Muno 2023 Chi vince Anei Muno Non vince Supercross Infatti Continua Anei Muno Vinto da Tommac Cazzo Ma guarda che c'è Se sei lì Anei Muno Se sei lì Anei Muno L'ultima cura Ti fermi Passa Guardi dietro Passa Ginciaro uno tipo L'altro non lo vince L'altro non lo vince No Moranz 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 vince Sì Ricordiamo Appascolato Diciattesimo Non era in forma Quando sono andati Sì la prima Moranz Sicuro Niente ci vediamo Nel prossimo video Il prossimo video Sarà il mondiale Il mondiale A Arroyo Molinos In Spagna E niente Seguiteci Mettete mi piace Ci scusiamo per Agueda Che non è uscito Non ce l'abbiamo fatta Per motivi di 3000 ponti E quindi Lollo 3000 gare 3000 girate in pista Quindi come dicevamo Siamo stati un po' egoisti Adesso si rimette a sedere Perché si è spente la telecamera Vado ad attaccarla Siamo stati un po' egoisti Vabbè Non siamo riusciti Ci dispiace Riprenderemo dalla Spagna Per il mondiale motocross Invece qui si parla Tra una settimana Solta i siti Ultima gara Ultima gara Vittoria di Roxen E tra l'altro Showdown 2,5 Peso Quello molto peso Che nessuno ha niente da perdere Quindi si può combattere Si può esagerare Hanno da perdere le National Quindi non esagereranno Niente Vabbè Vabbè National Cazzo americano Ok Detto ciò Ci vediamo raga Iscrivetevi Fabbè No si Tanto non si iscrivono Ah è vero Ciao a tutti ragazzi Ciao Ciao a tutti Ciao Grazie a tutti